Ecco i nuovi occhiali 3D Samsung realizzati in collaborazione con Silhouette, come possiamo vedere infatti le stanghette sono un pezzo unico nella parte superiore della montatura, tutto il comparto che riguarda le batterie elettroniche è stato posto nella parte posteriore che va dietro la nuca, rimane il connettore USB e il pulsante di alimentazione anche se in realtà questi occhiali possono essere sia ricaricati in modalità wireless che accesi o spenti automaticamente dal TV grazie a una nuova funzione che consente così di risparmiare batteria se per caso ce li dimentichiamo accesi. Gli occhiali sono anche molto leggeri, pesano solo 28 grammi e hanno un design sicuramente innovativo e particolarmente accattivante e moderno.